Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e il Vio 1 Variante. In Fipirì un chilometro di coda per lavori verso Firenze tra Empoli e Montelupo, in carreggiato opposta rallentamenti sempre per cantieri tra Ginestra ed Empoli Est. Prudenza inoltre per incendio, l'area di servizio di La Strassigna in direzione Livorno attualmente è chiusa, raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Con lo sguardo al trasporto pubblico locale viene prorogato fino al 31 dicembre il titolo di viaggio unico metropolitano che consente di utilizzare il servizio di trasporto integrato urbano su gomma, treno e tramvia. I comuni coinvolti sono Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, La Strassigna, Signa e Sesto Fiorentino, oltre a città metropolitana e Regione Toscana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buona versi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!